L'Aggiunta regionale prosegue la sua azione contro la concessione di nuove autorizzazioni per l'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi in Basilicata. Dopo la rinuncia avvenuta nei giorni scorsi al progetto di perforazione Grotta del Salice presentato dalla Shell Italia S.P.A., il governo Lucano ha deliberato un altro no, ma questa volta al programma di ricerca Frusci presentato da Leni, le cui trivellazioni avrebbero interessato i comuni di Atella, Avigliano, Baraggiano, Bella, Filiano, Pietragalla, Pignola, Potenza, Ruoti e Sanfele. L'Aggiunta regionale ha spiegato che il rifiuto del progetto ha lo scopo di tutelare le aree naturali protette e vincoli paesaggistici, archeologici e idrogeologici indicati nell'istanza depositata da Leni. Il provvedimento è stato varato dal governo Lucano poiché buona parte della Basilicata è già oggetto di diverse attività estrattive petrolifere. Per andare incontro alle esigenze della comunità, la regione ha manifestato la sua netta opposizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi in modo da conquistare in futuro importanti risultati sulla governance del territorio.